Per la giornata di mobilitazione nazionale indetta dal Movimento Notav, presenti anche i sostenitori del Movimento Notav, la rete Notav. Ascoltiamo Luigi Sturneolo che è appena sceso dal pilone dove c'è stata questa protesta, insomma più che altro una dimostrazione anche di affinità con i Notav. Sì, sì, una dimostrazione di solidarietà con il Movimento Notav che oggi in tutta Italia manifesta. Peraltro, visto che l'ultima volta che avevamo fatto una dimostrazione di solidarietà ci avevamo beccato i 14 denunce, oggi al massimo arriviamo a tre, visto che eravamo in tre. Abbiamo messo gli striscioni, abbiamo lasciato una bandiera Notav, peraltro per noi è anche un legame sentimentale con Luca Abba che qualche mese fa è venuto giù da un traliccio. Quindi un po' volevamo mantenere anche questo tipo di legame ideale con Luca che peraltro è stato qua anche nel 2006, nella nostra manifestazione. A dire il vero volevamo farla anche in stile alpinistico, visto che siamo anche degli alpinisti, però abbiamo dovuto farne soltanto una parte perché c'era troppo vento ed era impossibile farla tutta. Ci torniamo un'altra volta. Insomma, solidarietà è notav, ma per quanto riguarda Inoponte la situazione è diversa, ormai sembra chiusa la questione, almeno dal punto di vista europeo. In Europa hanno deciso che non è una priorità, questo non basta al movimento No Ponte, continueranno le manifestazioni? No, non basta. In realtà è vero, il Ponte è definanziato, però rimane in piedi l'astretto di Messina e S.P.A., rimane in piedi il contratto. E finché rimangono in piedi questi due elementi sarà sempre possibile mantenere questo canale di spesa che invece noi vogliamo interrompere. In questa ipotesi che ruolo riveste in questo momento la politica, giacché alcuni partiti, come anche l'Udc, il PD, sembrano aver fatto dei passi indietro, anzi dei passi avanti rispetto alla chiusura dell'astretto di Messina? Sì, i partiti noi li abbiamo visti in questi anni essere estremamente ondeggianti, a secondo della fase, sono stati favorevoli o contrari. In realtà loro dipendono molto da quello che è l'opinione della popolazione, da quella che è anche la tendenza del quadro politico. Sicuramente è un fatto molto positivo che alcuni partiti che in passato sono stati favorevoli al Ponte, ora sono su posizioni contrarie. Però il problema è ora non soltanto cancellare il contratto e chiudere l'astretto di Messina, ma capire anche cosa fare. Secondo noi a questo punto bisogna che le risorse preventivate per il ponte vengano utilizzate per il territorio. Noi pensiamo a alcune cose molto specifiche, per esempio la messa in sicurezza delle scuole, un piano di riqualificazione urbana, un piano di edilizia scolastica eccetera e soprattutto che tutto questo venga deciso e gestito attraverso meccanismi di partecipazione democratica e non attraverso meccanismi decisionistici o di verticalizzazione delle scelte. Sapete che proprio in quest'area a proposito di riqualificazione è stato presentato un progetto e qui probabilmente non potranno più esserci manifestazioni. Diventerà il simbolo di un nuovo turismo in città, che ne pensate? Noi pensiamo che quest'area vada assolutamente riqualificata, che vadano salvaguardate ovviamente tutte le esperienze positive che si svolgono in questo posto. Per esempio qua vicino c'è l'ex Sea Flight che è stato da un anno, è stato in parte quantomeno recuperato. In quel luogo si sono svolte delle iniziative a carattere culturale ma anche di dibattito politico molto importanti e quindi quelle vanno sicuramente valorizzate e conservate.